Terminata la Vuelta a Espagna, che ci ha mostrato un gran bel Filippo Ganna, vincitore, anzi dominatore della crono di Valladolid e secondo in mentre tappe, tra cui quella finale domenica a Madrid, è tempo di pensare ai campionati europei di ciclismo su strada, che si corrono in settimana nel Drenthe ad Olanda. Pippo ci sarà, ma non nella cronometro individuale, bensì solo nella prova in linea di domenica, con partenza da Assen ed arrivo in vetta al Vanberg, classica aerta di quelle terre. In tutto saranno 204 chilometri con un primo tratto in linea e successivi sei giri dell'anello di 13 chilometri e 700 metri, comprendenti lo strappo finale. L'idea di correre l'europeo è nata durante la Vuelta, Pippo in un'intervista aveva buttato lì la possibilità di vestire l'azzurro ed il CT Daniele Bennati non se l'è fatto due e due volte, confermando la sua convocazione ancora prima di aver annunciato la squadra. Difficile pensare che il Vignonese non abbia un ruolo di primo piano nella gara che assegna la maglia bianco-azzurro-stellata. Il Ganna attaccante, il Ganna che si butta in volata, il Ganna che a marzo ha chiuso secondo alla Milano-Sanremo, ha tutte le carte in regola per fare il classico garone. Con il Vignonese ci saranno Trentin, Affini, Viviani, Mozzato, Pasqualon, Sobrero e Cataneo. Pippo ad oggi ha chiuso secondo ben dieci volte in stagione ed un compaccio in queste ultime gare dell'annata, classiche belle soprattutto in Italia, ci sarebbe davvero bene. Non ci sarà invece Elisa Longoborghini, la tricolore della Lidl Trek rientrata al Tour di Romandì, non è in condizione per una sfida di alto livello ed allora meglio dire no. Anche questo significa amare l'azzurro che si indossa. La campionessa di Ornavasso però è stata convocata dal CT Marco Velo per la staffetta mista, ma ci risulta che comunque anche in questa prova non sarà al Via. Correrà la prova in linea delle donne under 23 in programma venerdì 22 settembre Francesca Barale. La villa d'Ossolese nelle ultime uscite è piaciuta e sul Vanberg potrà dire la sua. E come?